Esattamente Jacopo, perché l'Abruzzo ha un turismo a quanto pare in crescita nonostante l'emergenza Covid, un dato eclatante, quello del più 15% che presto ci spiegherà meglio il Presidente Roberto Di Vincenzo, Presidente dell'ISNART, l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. Numeri presentati questa mattina in conferenza stampa dall'assessore regionale al turismo Mauro Febbo e allora se è d'accordo ascoltiamo subito una breve intervista all'assessore che ci introduce al tema e poi commenteremo dopo i dati insieme. Un dato esaltante, un dato che viene da un'agenzia nazionale come ISMART e Union Camera, un dato effettivo basato sui dati reali e sulle previsioni rispetto alle prenotazioni, un dato che segnala che l'Abruzzo ha una performance, una delle migliori a livello nazionale e soprattutto che segna un più 15% rispetto al 2019, quindi non al periodo di crisi. Segna rispetto a un turismo che era andato bene, vuol dire che la campagna promozionale che abbiamo messo in campo ha dato risultati, quei dati che avevamo detto che ci sarebbe stato un travaso tra il turismo del mare e quello della montagna in effetti è stato così. Abbiamo buoni dati sul mare, ottimissimi dati sulla montagna e su tutto ciò che sono i nostri eremi, i nostri borghi, il turismo religioso, il turismo parlando di sport, quindi dati veramente importanti. Quindi montagna e molto successo la costa dei Trabocchi, dati addirittura di presenza che normalmente si hanno nel periodo di ferragosto e nonostante non siamo ancora nel periodo ferragostano e di ferie, invece quei dati già li cominciamo ad avere. Presidente Di Vincenzo, abbiamo ascoltato le parole dell'assessore Febo, un dato molto incoraggiante quello che riguarda il turismo abruzzese, più 15% un dato in controtendenza a molte altre regioni italiane. E' chiaro che il dato di quest'anno è un dato complesso perché abbiamo una Lombardia che scende del 77%, il Veneto che ha circa 100.000 persone in più che vanno in Veneto rispetto all'Abruzzo, quindi dei numeri impensabili. L'Abruzzo però, il dato di fondo è che l'Abruzzo assieme all'Umbria, la Basilicata, il Molise e la Sicilia crescono rispetto all'anno precedente. E questo è dovuto ad una serie di fattori, alcuni noti, altri li vedremo, noi faremo altre due indagini nel corso dell'anno proprio per cercare di comprendere il fenomeno e dall'altro canto prevederne gli andamenti futuri. Il dato che emerge è che i turisti vengono dal Lazio, dal Piemonte, dall'Abruzzo e dalla Lombardia. Quindi un turismo divicinato però non solo vicinissimo perché Piemonte e Lombardia evidentemente sono distanti. Si possono classificare due tipologie di turisti, andando a leggere il dato nel suo insieme, il turista abruzzese è un turista mediamente anziano, il 40% scopre che è più oltre 50enne. Però ci sono grandi differenze tra diversi oggetti, cioè quelli che vengono dalla Campania sono soggetti giovani, quelli che vengono dal Lazio sono soggetti anziani, quelli che vengono dall'Abruzzo sono medi. Quindi è una situazione particolare, ma è importante sottolineare questa cosa perché si possono delineare due caratteristiche diverse. Se il turismo naziale è un turismo storico, di seconde case, di gente che è abituata a venire qui, questa è un'interpretazione che sto dando, non è scritto sui dati. Ed è quindi quel turismo, tant'è che una delle caratteristiche del turismo abruzzese è che va poco su internet, prenota poco su internet. Però probabilmente, e qui non abbiamo questa capacità di fare questa separazione, per questo è un'indagine nazionale, e quindi i dati arrivano a livello locale fino a un certo punto in termini di approfondimento, molto probabilmente perché la parte romana, la parte naziale è quella parte che già conosce l'Abruzzo e quindi non ha necessità di andare su internet per prenotare, ma segue le abitudini. L'altra parte è quella sulla quale puntare, perché qual è la caratteristica, la domanda di turismo? Cioè che cosa, quali sono le motivazioni che portano in Abruzzo le persone? Non solo in Abruzzo, diciamo che in Italia quest'anno le persone, mentre lo scorso anno noi avevamo che circa il 30% delle motivi di vacanza erano questioni enogastronomiche, oggi il 35% sono sport, probabilmente col fatto che siamo stati chiusi in casa per un lungo periodo, è cambiata radicalmente, cioè la motivazione enogastronomica è andata molto giù tra le motivazioni di vacanza. Presidente, intervengo da studio per chiedere se c'è anche, e probabilmente sarà così, visto che lei ha citato tra le regioni in cui c'è maggiore presenza e i numeri sono migliori, certamente avrà influito anche la percezione della regione Abruzzo intesa come una regione un po' più verde dal punto di vista della curva epidemiologica, ecco mi passi il termine, di una regione con meno rischi rispetto alle altre. Ritengo di sì, però è una lettura analoga alla sua, nel senso che le regioni, prima avevo dimenticato l'Umbria, di mettere tra le regioni che aumentano persone che vanno in vacanza e che sono quelle regioni che meno di tutte il Molise addirittura raddoppia le persone che vanno in vacanza in Molise, certo passa 100.000 a 200.000, quindi i numeri comunque rimangono limitati, per ora addoppia e probabilmente c'è questo fattore, d'altro canto se pensiamo come scende il Veneto e come scende la Lombardia diciamo che questo è al contrario la risposta in negativo. Mentre nelle vicinissime Marche ricordiamo l'offerta turistica, non l'offerta turistica, il flusso di turisti che arrivano nella regione a nord dell'Abruzzo è in diminuzione, come mai questo dato opposto? Questo non sono in grado di spiegarlo, me lo sono chiesto, l'ho chiesto, probabilmente una delle ragioni è perché il turismo in Abruzzo costa meno, cioè venire in Abruzzo costa meno che andare nelle Marche, questo mi ha detto la mia direttrice proprio a domanda diretta, dicevo ma perché? Perché mi sono rimasto anche stupito tra Marche e Abruzzo, non c'è grande differenza. E poi perché nei fatti l'Abruzzo ha più carattere rispetto alle Marche, perché ha le montagne importanti, ha un mare che sia quello tradizionale di costa terramana che è quella principale, sia oggi quella chietina che si va affermando come la grande novità nel turismo anche nazionale, ha delle caratteristiche più specifiche, il fatto di avere personalità nel turismo è fondamentale. E a proposito di questo, il turismo della costa è sempre quello che va per la maggiore, però quest'anno un boom del turismo montano? Sì, sicuramente il tema dell'escursionismo, del trekking sono temi che si sono sviluppati e si stanno sviluppando molto, quindi è indispensabile, è utile, è importante continuare ad operare nella costruzione di destinazioni turistiche legate al turismo attivo, che è quello appunto del movimento, dello sport, dove principalmente gli elementi più forti sono il trekking e la bicicletta. Visto che lei prima parlava della tipologia del turista che viene in Abruzzo, dicendo che per la maggior parte sono comunque cittadini abruzzesi o delle regioni limitrofe, la invito a riflettere su un paio di dati, ovvero che un italiano su due quest'anno non andrà in vacanza e che l'86% di coloro che invece decideranno di andare in vacanza rimarrà in Italia, quindi possiamo dire per assurdo che questa emergenza Covid ha dato una spinta al turismo che rimane all'interno della nostra nazione? C'è un tema, certamente l'Abruzzo è una regione che aveva poco turismo straniero, circa il 5%, quindi Nefatti è una delle regioni che meno soffre della mancanza degli stranieri in regione. Poi questa del turismo nazionale, del turismo delle aree interne, cioè interna alla penisola, è un dato interessante specialmente se ci si riesce a lavorare. Mi spiego, è una grande opportunità, tante persone che non erano mai state in questa regione verranno in questa regione, se trovano l'offerta interessante torneranno nuovamente. Quindi è un momento, una bella sfida che bisogna affrontare quest'anno perché è una sfida che può permettere una permanenza, un aumento del turismo nazionale nella nostra regione a fronte poi di un ritorno anche al turismo straniero, perché speriamo che il prossimo anno anche il turismo straniero riparta. Presidente, una considerazione, perdonami Giuseppe, una considerazione perché ha tirato fuori un tema interessante. Questo è un momento cruciale perché il turista che viene, se si trova bene, con ogni probabilità tornerà anche il prossimo anno. C'è tutta la questione trasporti, perché tra poco Giuseppe ci farà ascoltare anche le parole dell'assessore regionale Mauro Febbo che si riferiscono per esempio alla viabilità sulla A14. La questione trasporti, quanto può incidere e quanto probabilmente ha inciso su questo dato, positivamente o negativamente? Come siamo collegati in questo momento? Immagino faccia la differenza. Un attimo, faccia la differenza. sono la cortesia e l'ospitalità, il 91%, è apprezzato il cibo, l'accoglienza in generale, i problemi sono legati sull'organizzazione del territorio, collegamenti, disponibilità di orari e offerta di intrattenimento. Queste sono cose sulle quali lavorare, tenendo presente che poi in particolare quest'anno ci sarà un ulteriore problema perché diminuirà questa tipologia di offerta, a partire dalle sagre, alle manifestazioni di Rio più nazionale. Visto che Jacopo Porcella da studio ha tirato fuori il tema viabilità perché in questi giorni si torna nuovamente a parlare del caos sull'autostrada, in particolare sull'A14 che appunto come ci spiegava potrebbe avere un impatto anche sul turismo, allora ascoltiamo a proposito di questo le parole dell'assessore Febbo che si è detto pronto a chiedere i danni. Sicuramente ha un impatto negativo almeno anche come immagine, quindi credo che nonostante questo comunque tutto ciò che l'Abruzzo mette in campo credo che faccia superare anche ai turisti quelle 3-4 ore di code che sono costretti purtroppo a fare, stiamo cercando in tutte le maniere di superare, di chiedere al governo di intervenire, altrimenti è chiaro che andremo avanti con le azioni di recupero dei danni. Quindi saremo a vedere anche come si risolverà questo tema che è molto importante in questo periodo dell'Abruzzo, ma le volevo chiedere un'altra considerazione. Sì, una considerazione flash, poi puoi andare anche in chiusura di collegamento, però una domanda flash al presidente Isnart di Vincenzo a cui volevo chiedere, l'impatto del bonus vacanze è stato positivo o negativo? Ah, ti ho rubato la domanda in maggio. Proprio di questo volevo parlare perché il numero è che solamente il 7,4% di coloro che vanno in vacanza utilizzano questo bonus. Allora possiamo parlare di flop? In realtà c'è un 14% che non ancora decide, però sicuramente il 78% della popolazione dice di non utilizzarlo. Ora è da capire perché questo è un dato più complesso, in quanto all'interno di questo ci sta anche chi non lo potrà utilizzare, perché ha redditi elevati. Quindi è un dato che va letto, però certamente è un dato non soddisfacente. Allora per tirare le somme in conclusione, come giudica l'operato della Regione Abruzzo e del Governo nazionale per sostenere un settore che ha patito molto in questo periodo di lockdown? Allora c'è un'attività in corso che dovrebbe avere efficacia in tempi brevi, perché comunque il turismo in Abruzzo è comunque in profonda crisi, molti alberghi non hanno riaperto, speriamo che nei prossimi giorni riaprano. La Regione ha lanciato una campagna promozionale e probabilmente c'è una connessione tra i due elementi.